È ricoverato in prognosi riservata Marco Imperato, 45enne salernitano, che ieri mattina pilotava l'elicottero precipitato nella boscaglia di Montesinaro, frazione del comune di Piedicavallo, in Valle Cervo, nel Biellese. L'uomo era stato estratto dai soccorritori, dalle lamiere dell'aeromobile, andato completamente distrutto nell'impatto con il suolo ed è in gravi condizioni di salute. Il pilota è ricoverato al CTO di Torino, dove è stato intubato per favorire e sostenere la ripresa rispetto alle lesioni subite nello schianto, che interessano soprattutto il capo e il tronco. L'intervento a cui è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri per la stabilizzazione di alcuni traumi è tecnicamente riuscito e i medici mantengono per ora la prognosi riservata del paziente. Imperato lavorava da circa quattro anni per la società Sky Aviation SRL, la società con sede operativa accossato sempre nel Biellese. Il pilota era da solo a bordo ed era impegnato nel trasporto di materiale verso il rifugio Alfredo Rivetti, a 2150 metri di altezza, nelle Alpi Bielesi.